E rieccoci, siamo in diretta da Saluzzo, dal quartiere, per cercare di raccontarvi un po' in questo pomeriggio la festa del libro medievale e antico, che è giunta alla sua terza edizione, e cui il tema principale è appunto il viaggio. Adesso passiamo ad un'altra intervista, come potete vedere ci sono già due ospiti qui con noi, in particolare abbiamo Giuseppina Bonardi, che è una professoressa dell'Istituto Tecnico Commerciale Denina Pellico Rivoira di Saluzzo, ed un allievo. Alessandro, benvenuti, buongiorno a voi. Grazie dell'invito, ci fa molto piacere. Anche a noi. Allora, noi vi abbiamo intercettati, intanto perché chi vi vede anche in video si immagina che probabilmente siete qua per un motivo particolare, non siete usciti di casa, non siete venuti con il vostro abbegliamento quotidiano, perché avete portato qui uno spettacolo che ci porta un po' al Medioevo, chi vi sta guardando lo capisce, ma con uno spunto piuttosto intrigante. Ci potete raccontare, magari non tutta la trama, ma insomma, qual è il punto di partenza? Sì, allora il punto di partenza è che noi, io e Silvia e Luigi, che siamo il trio di regia che organizza il tutto, a fine giugno abbiamo saputo il tema, che era quello dei viaggi. E quindi abbiamo detto, ma che cosa facciamo? Poi Silvia mi ha detto, ma sai che nella sala insegnanti della scuola c'è un bellissimo pendolo. E quindi potremmo mettere questo pendolo. Dal pendolo è venuta l'idea del viaggio del tempo, e poi dal viaggio del tempo, pensando all'orologio, TikTok, TikTok, abbiamo detto... Siete ricollegati così al social. Questo lo riattacchiamo ai social e quindi presenteremo vari personaggi che faranno vedere il loro video TikTok. Era ovvio, ma non ci avrei mai pensato. Tra l'altro ricordiamo che questo spettacolo teatrale si chiama viaggio nel Marchesato al tempo di TikTok. Ed è per questo che appunto parlavamo del pendolo e del TikTok del social. Però posso aprire un attimo una parentesi? Quindi voi questa cosa l'avete preparata quest'estate, a partire da quest'estate anche? Quest'estate, Alessandro vuoi dire qualcosa a tu? E' un po' che voglio chiedere proprio ad Alessandro. Com'è pensare a lavori anche legati alla scuola pure d'estate? Neanche lì sfuggi? Ma di sicuro toglie molto tempo libero, perché oltre ai vari impegni che ci sono, ovviamente oltre alla scuola, lavoro, questo spettacolo qua è stato abbastanza complicato, anche perché nel frattempo abbiamo avuto alcuni viaggi. Ad esempio io sono tornato da una settimana a Monaco di Baviera e quindi è stato leggermente difficile prepararsi in tempo. Però ce l'avete fatta, insomma, è andato bene? Eh sì, è stata dura, è stata dura, ma siamo indomiti e siamo coraggiosi. Comunque per rispondere alla domanda, l'idea è venuta a giugno, a luglio. Poi però noi praticamente avevamo le mani legate, cioè fino a che la scuola non iniziava non potevamo partire, perché già gli insegnanti stessi, abbiamo molti colleghi che sono precari, e quindi non sapevamo quale insegnante avremmo avuto quest'anno, non sapevamo quale ragazzo avrebbe avuto voglia di partecipare. Quindi noi praticamente abbiamo fatto, pur avendo tutta l'idea in testa, in un mese alla fine, perché la scuola ha iniziato la scuola. Cioè la scuola è iniziata all'11, noi quel giorno prima, il primo giorno abbiamo fatto uscire la circolare, entro il 15 ci sono state le adesioni, il 21 ci siamo trovati per la prima volta e il 21 andiamo in onda oggi. Complimenti quindi! Però dall'altro lato è una tempistica geniale, perché in genere verso giugno ci sono tutti gli spettacoli, i saggi, si accumulano tutti lì e quindi c'è un po' un affollamento. Vedete? Allora no, la facciamo tutta in un altro momento dell'anno dove non c'è nessun altro. La fantasia di quest'anno è che c'è stata la bellissima idea di fare i viaggi di istruzione ad ottobre, e quindi abbiamo avuto una settimana senza regista, una settimana senza protagonista, lui ieri era monaco di Baviera. Ma ce l'avete fatta comunque, tra l'altro lo spettacolo è andato in onda appunto alle 14 di oggi, ma sicuramente insomma riproporrete delle repliche, giusto? Sì, assolutamente. Quindi se qualche ascoltatore volesse venire a vedervi sapete già qualcosa oppure tutto da decidere? Dunque diciamo che l'anno scorso siamo stati invitati dal Monastero della Stella, qui abbiamo questa bellissima struttura della Fondazione CRS, che è molto attenta, la Fondazione CRS ha partecipato, ha finanziato la festa del Libro Antico e Medievale, e quindi come ci ha invitato l'anno scorso io penso che quest'anno senz'altro. Abbiamo anche degli inviti da parte del Comune di Manta, poi ecco una cosa particolare che abbiamo fatto l'anno scorso è stata la recita in carcere. Vuoi raccontare qualcosa Alessandro? È stata ovviamente una grandissima esperienza, anche coloro che si trovano lì per altri motivi sono stati molto comprensivi e ci hanno accolti molto bene, anche perché più avanti ci hanno anche... Sono nostri compagni di scuola. Come? Sono nostri compagni di scuola, perché noi come sezione, come istituto Denina Pellico Rivoira, abbiamo una sezione ristretta nel carcere di Saluzzo, con cui ovviamente non ci sono molti contatti e quindi il fatto che fossimo andati a fare lo spettacolo per i nostri compagni di scuola è stato bello, è stato bello, sì. E tornando invece all'interno dello spettacolo, abbiamo qui come dicevi il protagonista che è tenuto da Cavaliere, quindi per questo che sta in piedi, perché nel caso deve stessimo essere una minaccia, deve essere pronto a proteggerci, ma ricollegandoci invece all'argomento di TikTok, volevo chiederti, visto che TikTok teoricamente è un social media piuttosto generazionale, insomma dove i più giovani sono molto più rappresentati, avete dovuto insegnare voi qualcosa ai vostri insegnanti rispetto alla sua rappresentazione? Personalmente io no perché non utilizzo social. No, abbiamo trovato l'unico che non è i social, non è possibile. È entrato nel personaggio del Medioevo in pieno. Però altri nostri compagni li hanno aiutati abbastanza. Insomma hanno spiegato loro ai professori che cos'è TikTok, però è interessante. E tra l'altro, proprio parlando di TikTok, che è conosciuto come il social dei balletti, ovviamente non ci sono solo quelli, però effettivamente è vero che tantissimi ragazzi si dilettano a ballare su TikTok. Come siete riusciti in qualche modo a conciliare i balletti di TikTok con le danze medievali? Ma infatti non abbiamo sempre danze medievali, direi che danze medievali c'è poi l'ultima. C'è poi l'ultima, le altre abbiamo scelto brani estemporanei come ABBA, Lensin Queen, 8, 8, 3. Gli ABBA fanno ballare tutte le generazioni. Ecco, gli ABBA sono proprio intergenerazionali. Esatto, non vorrei fare spoiler per evitare che poi quando venite a vedere lo spettacolo sabbiate già, però no, ci siamo basati anche su qualcosa, direi che oltre al balletto di divertimento c'è stato anche un momento di riflessione. Quello di Silvio Pellico l'ho trovato particolarmente. Ci volete raccontare? Magari vorrei raccontarci. Ma credo che molti sappiano già la storia di Silvio Pellico che purtroppo è dovuto recarsi allo Spielberg. Però a parte questa parte qua, vorrei sottolineare il fatto che ogni personaggio aveva anche un carattere differente e quello di Silvio Pellico era ovviamente per via della sua vita abbastanza triste e sfortunata molto pesante. Quindi grazie anche ad altri nostri compagni siamo riusciti a creare questa storia. Quindi c'è stata anche un po' l'occasione di insomma apprendimento, un po' siete entrati effettivamente nell'ambito del Medioevo anche dal punto di vista come dire Io direi di sì, io direi di sì. Beh vorrei chiudere un attimo il discorso. Voi dite ma che c'è zecca Silvio Pellico? Ci faceva piacere perché comunque Silvio Pellico è un personaggio al quale ovviamente noi siamo molti legati. Da Saluzzo ovviamente. Anche una sede nostra appunto siamo sede Edenina, Pellico, Rivoira e quindi così a un certo punto il pendolo dà di matto ed esce fuori Silvio Pellico. E in questo balletto viene proprio fuori uno dei messaggi molto belli delle mie prigioni. Non so se voi l'avete letto, le mie prigioni. Sono io che faccio le domande. Mi dispiace probabilmente. Si sono invertiti i ruoli però ci può raccontare qualcosa. È un libro bello perché praticamente lui si limita a raccontare le condizioni inumane in cui veniva segregato senza denunciare politicamente l'Austria o senza avere atti violenti. E lui dice quello che mi ha impressionato il fatto che quando venivo portato allo Spielberg anche i tedeschi anche gli illirici mi compativano. E quindi dice io penso che gli uomini tante inimicizie che ci sono tante avversità se gli uomini si guardassero negli occhi e si parlassero. Quindi questo è stato diciamo il momento messaggio molto contemporaneo ancora. un messaggio forte che ci ha fatto piacere portare. E che quindi forse nel momento in cui si guarda ad una rappresentazione del passato aggiunge un'ulteriore dimensione quindi provare a metterci nei panni di chi sta attorno a noi ma magari anche metterci nei panni di chi stava prima di noi e quindi provare un attimo a immergersi nel medioevo e dire insomma erano così diversi così o magari qualche somiglianza c'era. Sì, la somiglianza che c'era è nello stesso tempo anche la presa di coscienza delle condizioni diverse che ci sono oggi. Ad esempio per le ragazze vedere che una, due, tre, quattro donne del passato avevano comunque il matrimonio combinato e tu non potevi dire niente venivi sposata a dieci, dodici anni e invece oggi la situazione è diversa. Quindi già solo riflettere su questi aspetti penso che possa essere interessante. Certo e queste parole mi fanno venire in mente che appunto voi nello spettacolo avete presentato molti personaggi non molto conosciuti che erano a Saluzzo nel medioevo e soprattutto tante figure femminili. Ce ne volete raccontare qualcuna che vi ha colpito? Sì, allora vorrei dire che abbiamo scelto figure femminili proprio per uscire un pochino dal cliché di quelli più conosciuti. Di solito qui a Saluzzo si parla di Ludovico II e Margherita di Foix. Invece siamo andati a scavare un pochino grazie soprattutto al Museo della Civiltà Cavalleresca che abbiamo qui a Saluzzo. Infatti come inizio abbiamo fatto proprio una visita alla Castiglia e poi abbiamo avuto anche la professoressa una docente universitaria di Milano professoressa Beatrice Del Bo che aveva studiato in modo particolare e ci ha dato proprio come dire documentazione cioè per fare un'operazione che fosse di divertimento ma che fosse anche culturale. Vuoi presentare uno tu di questi personaggi? No Agnese No Alessandro Passa Alessandro Passa No perché non fa preferenza Alessandro non fa preferenze No volevo invece chiedere visto che parlate appunto di collaborazioni stavo notando i vostri costumi se andassi a cercare nei miei armadi proprio magari qualcosa di vagamente che può passare per Medievala ad un occhio distratto magari sì ma invece i vostri costumi sono molto specifici mi sembra da dove arrivano? Allora noi come dire anche l'anno scorso perché già l'anno scorso abbiamo fatto un altro spettacolo questo è il secondo di una serie ci teniamo sempre a come dire a un'economia circolare cerchiamo sempre di spendere meno soldi la nostra DSGA è sempre molto contenta è un bel valore anche per non sprecare quindi in realtà è interessante e utile la nostra DSGA e quindi attiviamo ogni possibile fantasia e anche ogni possibile come dire capacità di chiedere e quindi abbiamo chiesto in questo caso sono state due come dire le entità che ci hanno dato risposta entusiasta Comunità Cenacolo qua di Saluzzo che utilizza molto costumi per i musicals per i si recita al più che musicals e ce li hanno imprestati subito per i balletti e il teatro del Marchesato qua di Saluzzo che anche ce li ha imprestati con molta generosità quindi è stato un bel gioco di generosità esatto di spalla di apertura di dono tu Alessandro ti sei appassionato questo abbigliamento magari lo riproporresti anche al di fuori del teatro ma fuori dal teatro no però di sicuro in altri spettacoli si potrebbe fare Alessandro non si farà mai più intervistare da noi è stato bello dovete chiedere ad Alessandro che cosa ha significato per lui iniziare questa esperienza ecco allora a dire il vero l'ho iniziata qui lo scorso anno poi nel passare del tempo mi sono avvicinato un po' di più con una compagnia teaterale di Caraglio i Mangiatori di Nuvole che in questi ultimi anni hanno ripreso di nuovo vigore laggiù a Caraglio nelle vicinanze e quindi sono venuto a far parte della loro compagnia e mi hanno aiutato molto a crescere anche come persona oltre che quindi non voglio sminuire però insomma non è che si interroggia la tua esperienza di teatro ma è questa cosa interessante che abbiamo fatto a scuola e poi basta invece qualcosa a cui ci si è appassionato mi piacerebbe molto continuare perché lo trovo una cosa fantastica a me interessava molto quello che dicevi sulla crescita personale in che senso il teatro ti ha aiutato a crescere anche come persona ma sicuramente mi ha aiutato di più a stare in mezzo al pubblico perché di mio era una persona già più leggermente timida e quindi questo mi ha aiutato molto e mi ha aperto anche molti sbocchi perché ad esempio molte vie perché ad esempio quella del teatro è un ottimo passatempo e potrebbe trasformarsi in qualcosa di più serio in futuro bene bene te lo auguriamo assolutamente per chiudere guardiamo proprio al futuro ci parlavate appunto di una calendarizzazione che ancora non c'è specifica per questo spettacolo ma se magari invece chi ci guarda che ci ascolta fosse stato intrigato c'è modo magari per informarsi sicuramente sulle pagine social che io non seguo potete ricordarci i nomi del nostro istituto l'istituto IS istituto di istruzione superiore Carlo Denina Pellico Rivoira so che abbiamo una pagina lungo così lo username sui social non chiedere cascate con la persona sbagliata comunque pagina facebook pagina facebook istituto Denina di Saluzzo grazie mille grazie a voi grazie davvero grazie Alessandro grazie alla professoressa e insomma siete sempre invitati su RBA se vorrai tornare a raccontarci qualcosa di più e non ti abbiamo spaventato troppo ora ci ascoltiamo un pezzo e torniamo qui con un altro ospite